L'ultima figura dell'estrema destra minaccia di mandare l'Italia su un pericoloso percorso autoritario che abbiamo visto altrove in Europa. A partire da febbraio 2021 c'è una nuova peculiarità politica in gioco in Italia. Per gentile concessione del nuovo governo del paese, guidato dal centrista tecnocratico Mario Draghi, l'Italia si trova ora con partiti di estrema destra che giocano ruoli di primo piano all'interno e all'esterno del governo. Mentre la Lega Nord Populista di Matteo Salvini fa parte della coalizione di governo di Draghi, L'opposizione parlamentare è ora dominata da Fratelli d'Italia e dal suo leader, Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia che prende il nome dall'incipit dell'inno nazionale del paese si è formato nel 2012, erede del movimento post-fascista fondato nel secondo dopoguerra. Meloni è una politica di lunga data nota per le sue posizioni di estrema destra sull'immigrazione e i diritti LGBT e l'aborto. Per Meloni, 44 anni, gli ultimi anni hanno fornito l'opportunità di rimodellare il suo partito, spostandolo verso una piattaforma nazionalista moderna più accettabile, garantendo al contempo che il suo manifesto contenga ancora collegamenti meno che sottili con le sue radici. Lo slogan, Prima l'Italia e il popolo italiano, ad esempio, è popolare tra i movimenti fascisti contemporanei come Forza Nuova e Casa Pound, quest'ultimo nel 2015 ha utilizzato una versione di questo slogan per la sua campagna sovranità. Grazie a tutti i nostri spettatori,